Musica Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e oggi ragazzi abbiamo un bel po' di novità per quello che riguarda questa settimana di Fortnite quello che deve uscire, quello che sta succedendo nel competitive in trio e anche un'immagine davvero molto curiosa di un possibile nuovo oggetto in game Questa settimana tra l'altro dovrebbe arrivare la patch 13.30, è già stata messa nei test server quindi abbiate veramente un attimo di pazienza e sicuramente ce la faranno a rilasciarla Prima di tutto però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator Xyuderone Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno, mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali, anche al secondo e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news E allora andiamo direttamente nel primo argomento di oggi perché abbiamo un gameplay esclusivo di una delle skin che è stata rilasciata nella patch 13.20 ma ancora non è disponibile in game Ve lo faccio vedere, la skin si chiama Kira, è veramente molto carina, è una skin direi pulitissima Per quanto riguarda le linee, le forme, solamente il colore è un pochettino così, diciamo questo verde fluo potrebbe essere abbastanza visibile diciamo nei prati o nei posti dove non c'è tantissima erba però è una bella cosa vedere questo gameplay Tra l'altro vi ricordo ragazzi che il fatto che venga ancora meno il fatto che siano arrivate le skin Ci lascio un pochettino dubbiosi perché è vero che hanno messo sui test server la patch 13.30 ma è anche vero che ci sono ancora tantissime skin presenti nei file di gioco ma purtroppo ancora non rilasciate Ne stiamo vedendo qualcuna in questo momento che passano e sono davvero tantissime Io mi auguro ragazzi che non ci vogliono fare lo scherzo di aspettare un'altra settimana perché vi ricordo che ieri il team di Epic Games ha terminato il periodo estivo e quindi è rientrato a pieno regime negli aggiornamenti anche perché termineranno la season 3 ma stanno già praticamente a buon punto con la season 4 non abbiamo ancora la certezza che si termini il 27 agosto questa season vociferavano che purtroppo ci sarà un posticipo fino al 29 settembre ovviamente incrociamo le dita speriamo di no e staremo a vedere cosa succede e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché da ieri pomeriggio è disponibile la terz'ultima LTM della lista che avevamo trovato nella patch precedente giochiamo la solo cecchini è un ottimo modo ragazzi per incrementare la scheda punti dove bisogna fare kill col cecchino oppure anche la scheda punti dove bisogna fare kill da più di 150 metri volevo comunque farvi vedere tutte le LTM che sono state recuperate quelle che vi ho segnato in rosso dovrebbero essere quelle che mancano ma in realtà mi sa che mi sono sbagliato perché la Close Encounters dovrebbero averla già fatta che forse questo sabato e questa domenica comunque ci manca ancora la Unvaulted quella dove ci sono se non ricordo male tutte le armi fuori dal magazzino e la modalità Blitz la cosa che dobbiamo chiederci è quando finisce questo ciclo di LTM che cosa succederà ne mettono altre nuove riparte da zero non lo sappiamo di certo le terranno come alternativa di gioco quindi le LTM rimarranno staremo a vedere magari nella patch 13.30 ci sarà un nuovo elenco e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché forse non lo sapete ma è stato trovato un nuovo glitch su Fortnite con un po' di pratica è possibile rianimare istantaneamente un compagno di squadra che è stato noccato voglio farvi vedere il video esplicativo e cercare di commentarvelo sotto vi lascio senza la mia brutta faccia come vedete ragazzi lui dice io ho visto delle persone fare questo glitch senza nessun backpack ma secondo me funziona meglio se gli metti il backpack di un pez quindi di un animaletto lui dice che funziona benissimo sia con il Merry Marauder che con il Gufo quindi quello di questa season e come si fa a fare questo glitch? come vedete ragazzi ci spostiamo in game siamo nella parte di Foschi Fumaioli lui lascia che il suo compagno cada in modo da farvi vedere e ci spiega di solito noi possiamo provare a rialzare il nostro compagno da ogni angolo ma per qualche strana ragione noi non possiamo rianimarlo se lui ha uno di questi backpack e quindi non possiamo metterci di fianco quando sta per succedere questa cosa c'è il pop up che ci dice di riavviarlo che appare e scompare per fare questo glitch devi semplicemente premere resuscita il più velocemente che puoi prima che il pop up sparisca non è facile lo dice anche lui quindi dovete continuare a spammare il tasto per riavviare ve lo fa rivedere nuovamente vedete il suo compagno si butta giù dovete essere veramente bravi lui spamma il tasto per riavviare e appena sparisce lo rispamma subito lo rifà ancora e guardate ragazzi adesso lo molla e lui senza bisogno di dover aspettare tutto il tempo in cui il counter countdown si termina quindi tutto l'orologio fa il giro può ressare il suo compagno questa ragazzi è una cosa incredibile perché adesso lui l'ha fatta vedere così ma immaginate prendere l'abilità di riuscire a fare un predict come dice lui prima che appaia quel pop up e magari durante un fight rianimare istantaneamente un compagno di squadra come sapete per i glitch non si viene bannati diciamo perché è un errore del gioco non state utilizzando dei software di terze parti provateci metteteci un po' di allenamento riguardate di nuovo questo spezzone perché è veramente molto molto interessante e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi e parliamo invece del competitive il signore che vedete qua se non vado errato è il signor Clix lo conosciamo tutti per avere fatto una delle death run più difficili ma perché vi sto facendo vedere Clix perché c'è stato un po' di attrito nel suo trio composto da Beezle, Commander e Clix nell'ultimo torneo in trio i tre non si sono più trovati bene e soprattutto hanno esplicitamente detto che nelle modalità competitive il nuovo lancia granate le lanci che in realtà sarebbe un lancia granate a impulso rovina totalmente la meccanica di gioco e quindi non permette di avere una buona lucidità in endgame inoltre hanno pubblicato uno spezzone video dove si vede chiaramente degli estremi lag sia nel personaggio che proprio nelle costruzioni e negli FPS in generale accusando ancora una volta Epic Games di non riuscire a gestire correttamente i server in competitive considerando tutto l'enorme numero di costruzioni giocatori cose strane non è assolutamente facile due notizie molto veloci sono che Beezle si è andato ad unire nei vecchi soci Mega e Dubs mentre invece Commandment è tornato nel team con Edgy e Sented per adesso ragazzi non ha nessun team Clix e tra l'altro noi sappiamo che tutto il settore competitive dei giocatori di Fortnite sta largamente preferendo la modalità in trio sebbene le FNCS e le qualifiche di quest'anno per le Championship Series saranno in solo probabilmente Epic Games ascolterà tutto quello che viene detto e ci auguriamo che magari un prossimo torneo super competitive sia fatto in trio e andiamo avanti qua intanto c'è un tweet solo per dirvi che non ci sono stati non si sono chiusi in cattivi rapporti gli umori diciamo del team quindi Clix ringrazia Beezle per aver giocato insieme dicendo che è stato uno dei teammate migliori che abbia mai avuto e terminiamo il video news di oggi con questa immagine veramente interessante perché ad un giocatore è apparso questa cosa credo che qua siamo addirittura più indietro perché questa è un'immagine della precedente season ma è uscito da poche ore nel vecchio pantano palpitante come vedete vicino a due barili slurp è apparso il pop up che permetteva di fare di collezionarli non era ovviamente possibile farlo ma qualcuno ha pensato che probabilmente il barattolo che viene utilizzato per raccogliere le lucciole poteva in realtà essere il concept di un barattolo per raccogliere la slurp adesso ovviamente hanno inserito le splash quindi questa cosa non è più necessaria ma secondo me era davvero un'idea carina poter raccogliere la slurp dai barili o ai tempi addirittura dal fiume che lasciava appunto la slurp a pantano palpitante non so se questa idea voglia poter proseguire per la prossima season qualora togliessero le splash io ve l'ho fatta vedere mi sembrava una cosa carina insomma ragazzi anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao 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 ciao